Un tavolo di crisi da convocare nel più breve tempo possibile sulla situazione della Blu-Tec di Termini Merese per dare risposte ai lavoratori dello stabilimento, la cui cassa integrazione scadrà a giugno. Lo ha chiesto con una lettera inviata al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della regione siciliana, nell'Omusumeci. Dopo le vicende giudiziarie che l'hanno coinvolta, la Blu-Tec è stata ammessa all'amministrazione straordinaria e nell'ottobre dello scorso anno i commissari hanno presentato al Mise il programma di riequilibrio economico. Da allora l'iter del procedimento è pendente anche a causa della crisi del governo nazionale e del cambio al vertice del ministero. Con la lettera al ministero Giorgetti, il presidente della regione ribadisce la posizione del governo regionale al fianco dei lavoratori, chiedendo di riscontrare le richieste inoltrate dalle segreterie regionali e nazionali dei sindacati, a cui mi permetto di aggiungere quella della regione siciliana, conclude musumeci, convocando nel più breve tempo possibile a Roma il tavolo di crisi. E noi aggiungiamo che la situazione Blu-Tec coinvolge oltre 600 lavoratori, a parte l'indotto, e che la cassa integrazione è stata autorizzata fino al mese di giugno 2021. Da quando se n'è andata la Fiat sono passati dieci anni. In questi ultimi dieci anni non è stato fatto nulla per il sito industriale. Forse è arrivato il momento di accelerare questo processo.